Il programma di signor Antonio Amedio, dottore in ingegneria chimica, con voto di 109 su 110. Il programma di signora Giuseppina Cerdesia, dottore in ingegneria chimica, con voto di 105 su 110. Il programma di signora Giuseppina Cerdesia, dottore in ingegneria chimica, con voto di 103 su 110. Il programma di signora Maria Luisa Cuda, dottore in ingegneria chimica, con voto di 106 su 110. Il programma di signora Giuseppina Cerdesia, dottore in ingegneria chimica, con voto di 110 su 110. Il programma di signora Maria Luisa Cerdesia, dottore in ingegneria chimica, con voto di 105 su 110. Il programma di signora Francesco Wiska, dottore in ingegneria chimica, con voto di 105 su 110. Il programma di signora Giuseppina Cerdesia, dottore in ingegneria chimica, con voto di 110 su 110. Il programma di signora Maria Luisa Cerdesia, dottore in ingegneria chimica, con voto di 110 su 110. A differenza dei miei ragazzi di stamattina, che ovviamente non credo abbia vissuto di questo, ma questa è una conclusione vera degli studi, o meno degli studi che ho vissuto. E' il caso di fare più che ritualmente gli auguri ai nuovi dottori, in quanto tutti, non sappiamo se tutti, partiranno da qua e andranno verso il lavoro. Sapete che sono tempi un po' complicati per chi cerca lavoro, però noi abbiamo anche più di un segno, se questo posso dire, soprattutto interessati, ma credo più le famiglie in questo momento, abbiamo più di un segno che per questa professione piuttosto strana che amministriamo in questi luoghi, forse la crisi è meno forte di quanto si possa pensare. Il fatto sta, io personalmente, perché l'ho anche qualcuno di noi, come in tempi recentissimi, abbiamo visto addirittura, mentre si sente tutti i giorni con la televisione, la gente che vede il lavoro, abbiamo sentito invece di persone che al lavoro ci sono andate, anzi, alcuni addirittura con più di una proposta, modifico di questo. Questo io credo che non sia solo un augurio, che risponde un po' alla realtà delle cose, ma per quello che ci riguarda invece è sicuramente un augurio da parte nostra, che accoppiamo con piacere alle congratulazioni per il risultato acquisito per gli studi, di tutto sicuramente di sforzi, se per i familiari e i miei amici che hanno assistito a le presentazioni di queste tesi di oggi avete visto come ci studiano forse a volte molto astrusi, sicuramente anche molto complicati. Quindi questo è ciò che i vostri giovani familiari hanno fatto, in poche maniera hanno un merito per essere arrivati a questo risultato, questo resta ed è, diciamo, l'attrezzo con cui adesso potranno sicuramente affrontare tutto il proprio esempio, che dura molto di più, quindi con maturazione di loro, auguri, e quindi io ho alunni anche a chi sta, io ho il vostro spazio, no? Ecco, le milioni fortune.